Ciao, sono Vincenzo Pagniello. Ciao, sono Stasio Olivero. E il nostro sponsor è Stizzo. Buona domenica a tutti. Sono Gennaro Fioriolo e lui è il Bomber. Luciano del Gennaro. Il nostro sponsor è L'estetico. Non abbiate paura che come l'anno scorso ci faccio trumazzo tanto. Non abbiate paura che come l'anno scorso. 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 Non abbiate paura. Non abbiate paura che come l'anno scorso. Non abbiate paura che come l'anno scorso. Non abbiate paura che come l'anno scorso. Non abbiate paura che come l'anno scorso.